Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video della Sky Adventure Prima di cominciare ragazzi link in descrizione questa sera alle 19 in live sulla Sky Adventure Non mancate perchè dobbiamo fare tantissime cose ma dobbiamo fare anche cose molto spicy oggi in video Quindi cominciamo Allora oserei cominciare da questa cosa qui che volevo subito buttare via per terra Non ho detto cosa ci posso mai trovare nelle bag E invece no l'ho aperta e ci ho trovato un blocco che vabbè ok copper che tecnicamente dovremmo già avere Ma il palis ho controllato ho detto non lo levo dalla chest perchè vorrei non averlo questo materiale E effettivamente sono andato qua a controllare e non c'era Ora a meno che non sia in qualche altra chest ma non mi sembra di vederlo No effettivamente ragazzi non abbiamo il palis Uh guardate ci sta riempendo questa Ok dovrò farli produrre qualcosa di più costoso ma vedremo con calma Comunque questo qua a cosa serve? Ah sono i cristalli e i cristalli forse ce li avevamo Ma ci mancavano però forse o forse no Sapete che io mi ricordo qualcosa di questi cristalli qui ecco vedete no un palis crystal ma ne ho soltanto uno Ma ci posso fare qualcosa? Apparentemente non è nemmeno di una missione quindi noi lo metteremo da parte e poi in futuro con calma vedremo Altra cosa molto importante oltre a questo spawner bellissimo che funziona ma non funziona Cioè funziona ragazzi anche troppo bene però c'è il problemino dei mob Ho visto che tutto sommato la miglior cosa forse da fare qui Uh la testa la testa che bello Comunque la miglior cosa da fare sarebbe forse mettere un doppio strato in modo che i mob non possano spawnare fuori Ma mi avete fatto notare una cosa molto importante Ora la wither dust non ci serve Io voglio il drop of evil Eccolo qua ragazzotti Perché ci serve? Mi avete detto che buttandolo per terra cioè cliccando con l'estero per terra comincia a spreddare E spreddare cosa vuol dire? Spandersi ma per fare cosa? Per far spawnare mob sopra Non ho capito se ne spawnano di più o se spawnano potenziati Insomma si è arrivato che è una figata e non è affatto male Intanto la testa di wither purtroppo ragazzi non è memorizzabile come potete vedere È l'unica testa che non è memorizzabile quindi dai ce la teniamo qui bella calma Mentre questo qua io oserei dire di provarlo intanto e vediamo come funziona Tipo qua che non può fare molti danni A parte uccidere il nemicello quindi in effetti può fare molti danni Dai ho capito prendiamo un altro pezzo di terra Eh però mi serve la terra veramente cioè la terra con le rebetta sopra non questa qua normale Ok così almeno mi memorizzo anche quest'altra E ne posso prendere quanto voglio se no ogni volta devo aspettare che cresca E forse non è il massimo Quindi a questo punto per testare io direi che ne possiamo mettere semplicemente Non facciamo un tere per tre da questo lato Clicchiamo al centro E quindi da quello che ho capito qua dovrebbero spawnare proprio più mob Non dovrebbero modificarli e basta questa roba È interessante molto molto interessante Però serve il buio e noi siamo in pieno giorno quindi O aspettiamo la notte oppure provo ad allontanarmi e vedere se ci spona qualcosa sopra Che non è male come cosa da testare No ok anche se mi allontano non spona nulla Forse vuole un posto buio per forza potremmo provare a coprirlo Oppure semplicemente veramente aspetto la notte sti cavoli Se ci vado sopra non mi fa affetti comunque eh Voi tra l'altro dovete crepare tutti Ah mi avete consigliato anche di usare spade con fortuna eccessiva Cioè ce ne sono un botto di cose ho visto E sì ragazzi comunque per farmare le teste Ovviamente qualcosa ci dovremmo inventare Quindi dobbiamo farlo Come anche l'episodio di apertura bag Perché ogni volta trovo sempre cose interessanti dentro Allora in questo caso magari la milia d'oro no Però qualcosa ancora da trovare ci potrebbe essere Sto leggendo velocemente la wiki Dice che in questo territorio diciamo mezzo corrotto Molto particolare Lo spawn rate dei mob aggressivi è molto aumentato Quindi ragazzi possiamo fare una mega farm Che ci produce tantissimi mob Il problema è che come avete già visto qui A noi i mob spawnano dentro questa roba qui E poi vengono trascinati Quindi dovremmo trovare il modo di far coincidere per bene Queste due cose senza che si scannino tra di loro Perché in effetti o spawnano sul blocco O spawnano sulla pedana Tra l'altro se non ho capito male Posso anche prenderla questa roba Con silk touch Quindi proviamoci Vediamo se funziona Ah no non funziona Brutta storia Beh io comunque ingrandisco un attimo la zona Che non mi dispiacerebbe Vedere cosa combina Perfetto così va bene Un altro commento Lizzissimo che mi avete dato È quello di utilizzare una spadina che avevo messo qua O forse non era qua Oddio sapete che ho dei seri dubbi su Ecco qua quella è qua del land Praticamente mi hai detto Se usi quella spada Potrebbe essere Che ci sia una possibilità in più Che ti droppi la testa Ok Nel dubbio ci andrei a mettere anche looting Ora noi di queste qua Delle spade del lander Ne abbiamo una Ma sono abbastanza sicuro Deve averne anche un'altra Non so dove Eccola qui Cosa cambia tra queste due spadine Allora Questa fa 4 di danno Questa fa 3 di danno Questa è in power 3 Questa è in power 3 Travel Ok Praticamente cambia ben poco Questa qui La prima è leggermente meglio Tra l'altro L'energia che noi possiamo dare qua Gli va bene O questa non gli andava bene Perché potrebbe essere un problemino Beh oddio No E da quest'altra parte Non c'entra nemmeno Ok Quindi dobbiamo stare attenti Potremmo incantarla però con looting Il bello di looting È che si può craftare Ragazzi Con L'enchanter Che abbiamo fatto in ultimo video Basta mettere delle teste E dei lapislazzoli Per fare a livello 1 Noi invece lo vogliamo a livello 3 Quindi usiamo delle 3 teste Semplicemente 3 lapislazzoli Vuole però Quali tipo di testa Ma vuole anche ragazzi Quelle lì Che hanno un valore in MC Quindi effettivamente A noi non ci costa nulla Che cagata veramente Che cagata 27 livelli E 3 teste a caso Porniamo quindi 3 teste a caso 6 Lapislazzoli E 27 livelli Che tecnicamente Posso prendere Anche qua Me li prendi? Per favore Voi potete Potete andarvene Potete andarvene Uh Cos'è sto coso? È sponato Qua sopra Quelli che sponano qua sopra Sono bruttissimi ragazzi Interessante come farm Sarebbe da vedere Quanti livelli Effettivamente danno Comunque Abbiamo dei problemini qua Ho 25 di esperienza Non mi basta Non mi basta per niente Potete semplicemente Disattivare questo Così almeno tutta l'esperienza Che va qui Me la posso mangiucchiare Oppure Molto più semplicemente Basta un click Ragazzi Nel nether E faccio 30 livelli Eccoli qua Bravissimi Bravissimi Cuccioloni miei Ecco tutti i miei livelli Che mi servivano Ebbè più facile di così Che vi devo dire Che poi tipo Non ne voleva nemmeno 30 Quindi forse Ne ho presi pure troppi Vabbè dai Non importa ragazzotti Non importa Allora Andiamo a questa legge Qui Ah già qua dentro C'erano le robe Vabbè Posso prendere Posso prendere però Un inksak Da un pollo Cavolo Che tra l'altro Com'è che lo faccio Con l'inksak E l'uovo Uuuuh Ce l'avevo memorizzata Che fortuna Che fortuna Veramente Non l'avrei mai fatto Se no Non l'avrei mai fatto Tra l'altro Non so nemmeno dove esca Non ho mai fatto cose Con gli squid Quindi suppongo Di averla trovata Da qualche parte Per forza Comunque finalmente Possiamo fare Anche questo Perfetto Me lo memorizzo Non si sa mai Potrebbe servire Per il futuro E torniamo di sotto Ragazzotti Ah che faticaccia Veramente Allora Ti ho detto Mettiamolo Ma Tanino Te lo metto Che si impara L'elementare Di saper distinguere Le immagini Tipo che questo enchanter Qui È ben differente Da quell'enchanter Lì che sto utilizzando Io Che va anche bene Tecnicamente Suppongo di sì Perché dark steel Ce l'abbiamo I diamanti ce l'abbiamo E il libro ce l'abbiamo Mi preoccupa il fatto Che sia dell'enderio La cosa si fa Abbastanza preoccupante Ma chi sono io Per giudicare Dai facciamolo Eccolo qua E quindi Questo robettino qua Io spero Non richieda Veramente energia Potrebbe essere Un problema Serio Però intanto Cosa devo fare E lo metto qua E lo metto qua a caso E vediamo se funziona Già così Senza che gli dica nulla Mettiamo questo dentro E non funziona Benissimo Vediamo Qua dice qualcosa Di diverso Forse Ah ma Ma non ha senso Cioè tipo Prima dice che ne vuole uno Poi dice che ne vuole due Poi dice che ne vuole uno Di qua è sei di là Ma che cosa sta dicendo Ma è impazzito Proviamo a dargli Le nove Magari cambia qualcosa Veramente E prendete le nove Ok ora funziona Ma che senso ha Ma che senso ha Non lo so Vabbè looting tre Si è preso E per fortuna Non voleva energia Ragazzi Ottimo Ora Envil E vediamo Se si può Unire Sei di livelli Ah Dio mio Ma si può sempre stare così A caccia di livelli Io non ho parole Veramente Meno male Che li posso prendere da qua Perfetto Sei livelli Uniamo il tutto E abbiamo la nostra spada De ender Con looting tre Allora io spero funzioni Perché se ho fatto tutta questa cosa qui Inutilmente no Indubbiamente looting tre Ci serve ragazzi Cioè sicuro 100% Otteniamo più teste Bisogna vedere se però sarebbe stato meglio Metterlo Nella mia staffa draconica Oppure realmente In quello lì Tra l'altro Questa cosa qua La posso modificare In qualche modo Avendo No Non dice nulla Effettivamente Sul Sulla probabilità di drop Delle cose Ok niente Proviamo con la spada ender Proviamo intanto Su di loro Beh Quante ender Mi ha dato Non lo sapremo mai Non è vero Ne avevo sei Ma forse qualcosa Nell'inventario Già ce l'avevo Che dire Intanto qui Si è espanso tutto Proviamo ragazzi Contro qualche Wither skeleton Ok Si 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 pia le cosette Nel lui Poi alla fine Ma ragazzotti Qui abbiamo Dei seri problemi Con tutta la roba Accumulata E potrebbe far laggare Tutto il mondo C'ho un'altra testa Allora ragazzi Io ho dei problemi Non mi rendo conto Di Da dove cavolo Escano le teste Ve lo giuro Qua leviamo le persone Che sennò blocca tutto quanto Veramente Da dove C'è La droppata Ma quando Quando è successo Un'altra Tre teste Ragazzi Funziona con una meraviglia Un'altra testa Non ci credo Ragazzi Ci siamo stati 20.000 episodi Di cercare Una singola testa Che era impossibile Per molti motivi Effettivamente E poi E poi Così A caso Guardate Quella lì Già ne avevo Una Quindi siamo Già Cinque teste Cioè Se ora Vado lì Magari Esporna qualcuno Ho già Un'altra testa E È spettacolare Come roba Quindi Ragazzi Nel prossimo episodio Vorremmo realmente Andare a affrontare Uno dei boss Più forti Quindi Il Weaver Boss Non vedo l'ora Sarà abbastanza facile Da uccidere Suppongo Però Sono comunque curioso Non ve lo posso negare Anche perché Belli miei Non sappiamo cosa Che potrebbe droppare Magari ci droppa cose Molto molto spicy E Potrebbe essere Un'ottima cosa Veramente Sì ma Ora che voglio Che escano i mob Così li vado a uccidere Io con la mia spada Non escono più Ma sono infamissimi Ma veramente Ma che storia è questa Ma non è giusto Vabbè Al massimo Ci dobbiamo accontentare Di questo qua Suppongo Ok ragazzi Hanno deciso Che loro Da ora Non si vogliono più Baggare fuori Perché hanno paura Cioè Penso sia l'unica Non c'è altra soluzione Veramente I nostri polli In tutto questo Come stanno qua Quanti hanno fatti Ne hanno fatti 10 Beh li possiamo rimettere qua Questi li andiamo a sostituire Già che non ci servono più I 9 10 10 E ora ragazzi Qua abbiamo ben 16 10 10 10 E ben 2 10 10 10 La velocità È molto molto buona Sicuramente In live Andremo anche a finire La farm Di esperienza Riguardante però I polli Quindi a proposito di live Non mancate Questa sera Alle 19 Link in iscrizione E quindi Ciao a tutti